Ti piace ripreso così, amore? Non mi muovere! Non si muovere! Non si muovere, non si muovere! Non si muovere! Ebrutare un po' altra cosa! ti sembra un babbuio questa cosa non è vero con la testa grassa il corpo muove babbuio ma guarda che ti stai sentendo ti senti cosa dici è vero scusa le mani grosse sembrano più rispetto al corpo sembrano giganti non mi muovere che mi rovino poi la testa sembra più piccola poi la testa sembra più grande il corpo sembra minuscolo i piedi sembrano giganti le mani e i piedi sono enormi anche la testa il culetto che invece di solito bello cicciottoso sembra minuscolo infatti se non è voluto andare non è ha mosso la mano cosa vuol dire che ha guardato l'ora è vero scusa è vero scusa è vero scusa Luca mi dai troppi colpi come faccio a fare un video bello se mi muovi non lo so e butterò via tutto perché senti ridi ma almeno non faremo un film dove parliamo di questi dettagli 2.57 wow eh tranquillo tranquillo mi fa panno poco eh dai Ludo sembravi un babbuino della foto si c'è tutto ripreso di quello che dice sempre dolcissimo 3 minuti a parte di parte